Ciao a tutti popolo del tubo, oggi vi porto un test mod velocissimo ma spero per tanti di voi utilissimo volevo fare i robimel news, i robimel 81 mod news ma veramente stasettimana ragazzi è uscito poco e niente di utile si è uscita qualche altra mod sul modab ufficiale e quando abbiamo finito questo veloce test map vi porto a vedere che cosa è uscito di bello vi porto oggi adesso subito a vedere questa cosa qua ragazzi, una casettina posizionabile, una casettina piccola, umile, modesta come potete vedere questa è la mappa della mia serie europea, come potete vedere una casettina umile, piccolina ma utile ragazzi perché nella realtà non è che un agricoltore quando inizia a farsi una fattoria si fa subito la casa da 300.000 euro che comunque deve fare un prezzone comunque esagerato ma uno magari inizia con una catapecchietta piccolina come questa qua dove può riposare e passare il tempo quindi ragazzi qua c'è il trigger è quello del riposo voi venite qua ragazzi pigiate R e se è il momento giusto vi riposate e la casa non costa nemmeno tanto ovviamente la trovate dentro appunto le fattorie, vedete questa è quella standard, vi si spauna qui, si chiama old trailer home e finalmente con 25.000 euro, ve potete permettere pure voi di dormire questo ragazzi per me non è cittare, questo è giusto perché secondo me dovevano mettere le cose, vari tipi di case una casa piccolina, una casa media, una casa più grossa così uno a secondo dei soldi se fa la casa più bella e più grossa ma non è possibile che io per trovarmi un punto per andare a dormire nella mappa devo spendere 300.000 euro mi sembra un po' una cazzatella dai diciamocelo ragazzi quindi con questo posizionabile qua io spero che abbiate risolto il problema del tempo perché poi vanno avanti a notte il tempo è veramente una palla incredibile e adesso fatto questo piccolo e veloce test mappa e vi porto a vedere le mod nuove che sono uscite sul mod hub allora ragazzi sul mod hub adesso io vi porto a vedere una cosa ci sono molti che mi dicono ma come si mettono le mod su ps4? allora su ps4 le mod si mettono come su pc quindi basta andare qua a categoria mod e andate appunto a vedere quello che c'è di nuovo quello che c'è di nuovo rispetto all'ultima puntata del Robbimello 81 Mod News è questa bella palacommata JCB ragazzi che devo dire ci voleva perché di palacommata ce n'era solo una nel gioco quella della New Holland poi come trattori hanno aggiunto il New Holland 8340 eccolo qua ragazzi bellino piccolino patatino come carrelli il Flieg ASS298 quello che si attacca ai camion o al dolly e mi pare la ecco qua la seminatrice questa qui stava nel DLC KUN di farming 17 la KUN Planter 3R12 ROV questo secondo me era molto utile qualcuno ha detto sì ma voglio dire ma allora tanto vale torna a giocare al 17 no perché così c'è un gioco più completo c'hai le mod cioè c'hai i mezzi del 17 più c'hai i mezzi del 19 perché non è un gioco de calcio questo che se tu c'hai i giocatori dell'anno prima diciamo c'ho le magliette dell'anno prima e i giocatori dell'anno prima cioè questo è un gioco che si basa sui mezzi e quindi avere più mezzi anche se sono vecchi è sicuramente utile soprattutto ad inizio carriera dove appunto i soldi sono pochi poi se sei uno che gioca con il cheat dei soldi come si dice il cheat dei soldi e il trucchetto allora non ti serve niente ma secondo me manco te godi il gioco comunque detto questo ragazzi lasciate un polliciotto fatemi sapere se la moddina della casa e queste moddine qua vi piacciono in descrizione ci sono tutti i miei social i link per comprare giochini e scottare system gaming e noi ci vediamo appena c'ho qualcosa interessante da dirvi ciao